Già nel 1943 i leader alleati decisero di creare un'organizzazione internazionale incaricata di alleviare le tensioni e garantire la pace. Al termine della guerra, durante la conferenza di San Francisco del 1955, le potenze vincitrici istituirono così l'Organizzazione delle Nazioni Unite, che avrebbe dovuto riunire tutti i paesi del mondo. Gli obiettivi dichiarati vennero elencati all'articolo 1 dello Statuto. Mantenere la pace e la sicurezza internazionale. Sviluppare relazioni amichevoli fra le nazioni, sulla base del rispetto dell'eguaglianza dei diritti e dell'autodeterminazione dei popoli. Promuovere la cooperazione internazionale in materia economica, sociale e culturale, non che in rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. L'organizzazione, con sede a New York, divenne operativa dal 1946. All'interno di essa, Stati Uniti, Unione Sovietica, Gran Bretagna, Francia e Cina ottennero una posizione privilegiata, in quanto divennero membri permanenti del principale organo dell'ONU, ossia il Consiglio di Sicurezza, e potevano porre il veto sulle sue decisioni. L'ONU ha spesso finito per essere inadempiente al suo compito principale che era quello di prevenire e contenere le crisi.